Allora visto che c'ho la bimba qui e mi sto stuccando per la novantesima volta a tua storie, fai pure la tua cazzo di domanda Ovviamente my man balls, Budi sa la sente calda, fa il fintumili ma fa tutto l'idro, il capetto, ma vattene a fa un culo cowboy Mi torna nel deserto scemo Oh yes, me lo state chiedendo in molti, quindi vi rispondo sì Mi è piaciuto l'album di Wepek, è tanto rap, lui è forte come sempre del resto, quindi assolutamente sì, bel disco Eh raga è presto dai per dare un giudizio, a me la mappa nuova piace al contrario di molti altri che ho sentito lamentarsi Purtroppo è ancora molto buggato, del resto ci sta, è uscito da pochi giorni, dovranno fixarlo per bene, vedremo In realtà se guardi bene la storia, la sigaretta era spenta Questo perché poi da bravo papà modello sono andato alla finestra, lontano da dove sta mia figlia E mi sono fumato la sigaretta Quindi l'unica roba che è una merda è la tua vista O il tuo cervello, o tutti e due Allora perra, dobbiamo fare un po' di chiarezza qua Sennò mandano gli assistenti sociali Chi è il papà più bravo del mondo? Ah, visto Visto E voi vi starete chiedendo, ma che soldatino? Soldatino, ino, ino Ma scusa eh, soldatone